Ciao a tutti! Allora, ci eravamo lasciati con le ultime due puntate relative all'Alpin A310 V6. La prima in cui avevo descritto la sua genesi, la seconda in cui avevo raccontato la storia del mio esemplare, del 78, nato ad ottobre del 78 in quel di Dieppe, e purtroppo a fine 2010 protagonista di quella che è stata l'alluvione nella provincia di Padova. Quindi di fatto, adesso incominciamo una nuova serie di video in cui vi racconto a tutti gli effetti come è stato restaurare la vettura, ma soprattutto, essendosi purtroppo dimostrato che la macchina aveva bisogno di più interventi rispetto a quanto previsto, quella che poi è diventata, piano piano, lentamente, nell'arco di sette anni, la trasformazione da una macchina stradale ad una vera macchina da corsa, con tanto di HTP e, a tutti gli effetti, seguendo le specifiche dettate dalla FIA. Ecco, allora, ammetto che se la preparazione è durata sette anni, ci sono due motivi. Il primo, ovviamente, è un aspetto economico, perché rifare una macchina da zero, e soprattutto non come una stradale, ma come una macchina da corsa, che a tutti gli effetti non conosce nessuno, diciamo che è un po' un'avventura, un'avventura che era nata un po' per gioco, quindi questo è il secondo motivo, era nata un po' per gioco, nel senso che Mice abbiamo iniziato a smontarla, a pensare un attimino a come sarebbe potuta essere, ma non come macchina da corsa, semplicemente come una macchina un po' da track day, no? Quindi, di fatto, stradale, con gli ammortizzatori, insomma, le sospensioni riviste, e quindi fatta un po' più pepata. Il problema è che, appunto, che prendendola per mano, poi abbiamo visto alcune sorprese che un po' alla volta ci hanno portato a capire che andava ridefinita, praticamente, tutta la vettura. Quindi, i due punti sono economico e, di fatto, il modo con cui abbiamo iniziato il lavoro, nel senso che siamo partiti con il piede, lo dico, quasi per gioco e poi, in realtà, la cosa è diventata molto, molto seria. E quindi, gli anni si sono, diciamo, accumulati, il tempo è passato, le spese sono state tante, ma, soprattutto, alla fine, poi, non perché all'inizio non fossimo, diciamo, in grado di fare lavoro, perché piano piano comunque ci andavamo avanti, però, a tutti gli effetti, poi, chiedere ad un preparatore vero, esattamente, fare gli interventi, dà un attimino più garanzie. Da più garanzie, costa, ovviamente, di più, ma dà più garanzie, nel senso che, giustamente, se c'è un problema, lo risolve più che altro con il know-how. La vettura 310 U6, obiettivamente, è sconosciuta in Francia ed è ancora meno conosciuta in Italia, quindi, comunque, trovare un esperto di quella vettura è difficile. Quindi, giustamente, mi sono fatto aiutare, prima, da amici, che, tra l'altro, appunto, Andrea, che lavorava sulle, appunto, su vetture simili, e quindi è stato, ovviamente, un valore aggiunto. Poi, il preparatore, assieme a cui sono andato anche direttamente a Diap in fabbrica ad avere alcune informazioni, si è, ovviamente, impegnato, e quindi, poi, insomma, la macchina l'abbiamo portata avanti con tutto lo sviluppo necessario, secondo, appunto, le specifiche della FIA. Quindi, facendo un riassunto molto veloce, nel 2010, all'inizio di novembre, c'è stata l'alluvione. Alcuni amici del mio Veneto Rally Club hanno portato la mia macchina a, diciamo, da un meccanico di fiducia qui nel Padovano, che ha fatto alcuni interventi per ripristinare l'utilizzo della vettura, ma, alla fine, dopo un anno, sono costati parecchio, e, purtroppo, smontandola, abbiamo riscoperto che di fango ce n'era ancora veramente tantissimo, quindi è stata un'esperienza che non mi è assolutamente piaciuta. Quindi, passato tutto il 2011, all'inizio del 2012, decido, con l'aiuto del mio amico solito Sergio di Brescia, di portarla, praticamente, da un altro amico, faccio anche il nome, Andrea, che seguiva, le, e segue, penso ancora, è un po' che non ci sentiamo, ciao Andrea, le DeLorean. Le DeLorean, come voi sapete, le DMC-12, hanno tutti gli effetti, un monotrave centrale, parte la crozzeria su Sottoscocca in Vettoresina, e, soprattutto, montano il PRV. Quindi, a tutti gli effetti, sono state sviluppate, in quel di Etel, quindi a casa Lotus, manco falloposta, studiando un'Alpina 310. Quindi, ci sono proprio le foto che lo dimostrano, che lo attestano. Quindi, a tutti gli effetti, sono dato da Andrea, perché, appunto, lui conosceva sia il motore, che è la meccanica. Infatti, grazie a lui, in realtà, abbiamo iniziato a fare degli interventi abbastanza anche corposi, ed è stato, praticamente, un primo passo per iniziare il lavoro. È stato ripreso per mano tutto il telaio, e, quindi, a tutti gli effetti, si è smontata la carrozzeria dal telaio stesso. Abbiamo riscoperto che, purtroppo, il telaio non era in buone condizioni. Il tutto non era dovuto, di fatto, all'alluvione, ma, di fatto, era dovuto ai suoi anni. Diciamo che, al tempo, nel 1978, le macchine sono artigianali, e, quindi, non avevano grandi protezioni antiruggine, e, a tutti gli effetti, erano fatte proprio a mano. Quindi, con le particolarità delle macchine fatte a mano. Cioè, quindi, qualche imprecisione, ma, soprattutto, magari, poca cura in alcuni particolari. Questo significa che il telaio, dopo, appunto, dal 1978 al 2012, ci sono 34 anni, insomma, diciamo che dopo 34-35 anni, a tutti gli effetti, non tutte le parti in metallo del telaio erano in ordine. Quindi, abbiamo ricostruito tutti i duomi, abbiamo riscatolato anche lo stesso telaio, così per rinforzarlo, più che altro, non perché ne avesse bisogno. Abbiamo cercato diverse foto, alcune foto, diverse no, perché ce ne sono poche, alcune foto su quello che era l'A3-10 V6 in gruppo 5 e poi gruppo 4, quindi abbiamo cercato di rinforzare il telaio per poi montarci il rollbar, secondo quelle specifiche, perché poi, di fatto, nella FISH non ci sono per molti particolari. Quindi, abbiamo cercato di ricreare il telaio come era in origine, sul gruppo 4, mettendoci, però, anche oltre i rinforzi. Cioè, a tutti gli effetti, la macchina ha un monotrave centrale, quindi la sicurezza non è uno dei suoi forti. Anche perché il motore è poi posteriore, quindi di fronte al pilota e al navigatore, a tutti gli effetti, non c'è praticamente nulla. Questo significa che il telaio è stato rinforzato, è stato fatto apposta delle piastre, anche per montarci sopra, come dicevo, il rollbar. Però, il lavoro iniziale, appunto, è stato quello di smontare il telaio dalla scocca. Una volta smontato il telaio della scocca, e viste le condizioni, abbiamo pensato di, ovviamente, sabbiarlo. Una volta sabbiato, abbiamo ripristinato le parti danneggiate. Abbiamo verniciato il telaio a polvere. Si era pensato che di zincarlo, ma poi, considerato che la macchina deve essere, appunto, una macchina da corsa, in caso di urto o meno, comunque poi il ripristino della zincatura sarebbe stato un po' complicato. E quindi abbiamo pensato di fare un processo più semplice, quale, appunto, la, diciamo, la pittura a polvere. Terminato, praticamente, il ripristino del telaio, e qui adesso ne vediamo le foto, siamo arrivati, praticamente, a lavorare sul, anzi, in parallelo, chiedo scusa, siamo arrivati a lavorare sulla scocca. Per la scocca mi sono appoggiato il mio amico di sempre, appunto, Sergio, di Brescia, che, a tutti gli effetti, mi ha montato il kit. Quindi, il kit gruppo 4, che ho acquistato da Simon Auto, appunto, di E, in Germania, ho preso quasi tutto il materiale, praticamente, da Simon Auto, costoso, niente da dire, però ho fatto abbastanza bene. Quindi, tutto il lavoro della Vettoresina, e quindi l'installazione della Vettoresina, è stata fatta, praticamente, da Sergio, con, decisamente, tante, tante ore di lavoro. Non tanto per i quattro parafanghi, quanto, purtroppo, per la, per far quadrare quello che era il telaio lavorato, e quindi aggiornato, o rinforzato, a quella che era la scocca. La scocca è stata smontata dalla macchina circa un anno e mezzo, e, senza, senza il parabrezza, e di fatti, cioè, di fatto, si è, a tutti gli effetti, un po', come dire, invergata. Quindi ha perso un po' la sua natura di... diciamo, non era più così dritta, a tutti gli effetti. Quindi, ogni qualvolta che facevamo un intervento sul telaio e rimontavamo la scocca, l'avremmo montata e smontata senza esagerare 30 volte, di fatto c'era qualche problema. Tant'è che, infatti, gli stessi rinforzi del telaio abbiamo dovuto tagliarli, rimetterli e rimontarli diverse volte, finché, alla fine, abbiamo trovato la quadra. Sembra una cosa stupida da dirsi, però, purtroppo, le vetture di Vettoresina funzionano così. Quindi, a tutti gli effetti, hanno una facilità di, come dire, di distorsione, insomma, perdono un attimino la loro forma, mettiamola in questo modo, se non sono, appunto, rinforzate. E a tutti gli effetti, lasciandola separata dal telaio, il problema ce l'abbiamo avuto. Comunque sia, dopo veramente tanti, tanti lavori, e tante anche maledizioni, imprecazioni, il telaio e scocca sono stati finalmente montati insieme. La scocca, nel frattempo, era stata portata da un amico carrozziere, che, come sempre, fuori orario, me l'ha pitturata, e qui, ovviamente, sempre un grazie. E quindi, poi, la particolarità di questa scocca è che, vabbè, è vero, è stata pitturata, ma poi, in realtà, tanti particolari, tipo, per esempio, i filetti che ci sono a bordo della vettura, quindi, sulla versione Calberson, e qui devo ringraziare il Kragi che mi ha trovato i codici colore, ma, di fatto, sulla parte arancione della macchina, i colori Calberson sono rosso, giallo e nero, sulla parte arancione ci sono dei bordini, praticamente, che richiamano il colore, prendete, della parte sotto oppure della parte sopra. Quei bordini non sono stati fatti in stickers, in adesivo, ma sono tutti gli effetti pitturati, quindi abbiamo dovuto fare, grazie a Sergio, delle contromaschere, insomma, è stata fatta, secondo me, abbastanza bene. Ecco, poi avevo comprato anche un alettone gigantesco della Flashman, ma alla fine non l'ho montato, come non ho voluto montare il sottoporta, perché nella versione 4 iniziale non montava il sottoporta, e non ho montato neanche il musone largo, sotto all'anteriore, perché, secondo me, è più, diciamo, da pista, mettiamolo così. Quindi, per l'utilizzo che se ne sta facendo adesso, a tutti gli effetti non mi servono, quindi sottoporta sicuramente non li monterò mai, mentre il musone può anche darsi, ed ho pensato di fare anche una struttura diciamo montabile e smontabile, ma ancora non l'ho realizzata. Comunque, a tutti gli effetti, quindi a fine 2013 la macchina venne esposta senza motore, senza interni, quindi solo scocche e telaio montati, alla fiera di Montichiari a Brescia. A tutti gli effetti quasi una maquette. inizia da quel momento, quindi arriviamo al 2014, il lavoro vero e proprio, perché una macchina non è solo telaio e scocca, in realtà ci sono solo due parti di una lista infinita che cerco di mettere in ordine alfabetico sperando di non dimenticarmi nulla. Allora, prima c'è il cambio, le metto in ordine alfabetico, quindi cambio la carrozzeria, i cerchi, le gomme, ovviamente, poi c'è l'impianto di alimentazione, l'impianto elettrico, l'impianto di estinzione, l'impianto frenante, l'impianto edaulico, l'impianto di scarico, quindi lo scarico, insomma, gli interni, tutto il motore, i mozzi ruota, il serbatoio da preparare per la corsa, lo sterzo e direi basta. In parallelo ci sarebbero i documenti, quindi diciamo l'HTP, ma soprattutto le specifiche, le fiche FIA e i vari trasporti di corsa di qua e di là con la macchina per fare tutto. Quindi di fatto ci sono tantissimi i punti su cui si è a tutti gli effetti lavorato e purtroppo sono, sia per quello che costi, sono anche notevoli proprio perché a tutti gli effetti ogni virgola della vettura è stata rivista, non c'è proprio nulla di stradale, della macchina stradale, se non magari i fari, per così dire. Ecco, neanche il volante insomma non è più quello stradale, i fari sì, ecco, quello effettivamente devo dirlo. Ecco niente, quindi con questo primo video, anzi sarebbe il terzo sull'Alpina 310, chiudo il discorso con il restauro legato appunto alla prima parte, quindi telaio e carrozzeria nel prossimo video vedremo gli altri punti. E niente, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti.